musica musica what the aaaah aaaah musica 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 a quella matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio numero 89 in un nuovo appuntamento di MotoGP 2013 andiamo a vedere immediatamente che cosa ci dicono tramite email vediamo un po' vittoria team manager vittoria campionato Moto3 ciao ciccio prima di tutto complimenti per la vittoria nel mondiale piloti 3 siamo tutti molto contenti di come hai percorso durante la stagione nonostante tu sia un pilota molto giovane hai dimostrato con i risultati che la nostra fiducia in te era ben riposta tutti nel team sappiamo che trattenere un giovane del tuo talento non è facile che probabilmente hai già ricevuto delle offerte dal team di categorie superiori qualunque sia la tua scelta uniti Red Bull KTMI vogliamo che tu sappia che siamo fieri di aver lavorato con te e ti auguriamo il miglior il miglior per il futuro vabbè eccetera 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 ma chi ci rimane in Moto3 ma chi ci rimane vediamo un po' gran risultato prima funzione in giro poi credo che sto venendo molto bene continua così perfetto vogliamo vedere se ci abbiamo qualche se ci abbiamo qualche interesse per il team vediamo un po' se possiamo andare in Moto2 allora questo no questo no ma ma non credo che ce l'ho credo che dobbiamo finire comunque dobbiamo finire dobbiamo farci l'ultima gara sì dobbiamo farci l'ultima gara assolutamente vediamo un po' Moto3 no tutto è Moto3 ok dobbiamo farci l'ultima gara io ho visto tutti i vostri tutti i vostri commenti aspetta aspetta devo andare a vedere una cosa torna indietro voglio andare a vedere un attimo i quotidiani giovane campione sudato porta a casa il titolo Moto3 e andiamo e dobbiamo andare a calendario dobbiamo fare Valencia l'ultima l'ultima tappa del nostro tour per poi sicuramente dobbiamo andare al in Moto2 almeno spero che riusciremo ad andare in Moto2 allora non so se farvela vedere o se non farvela vedere so sincero non lo so non lo so perchè voi mi avete detto aumenta quello aumenta quell'altro super giù aumenta quello metti le difficoltà massime birbirbirbirbirbirbirbirbirbirba ma è inutile ragazzi cioè andiamocene subito in Moto2 porca miseriaccia andiamocene subito in Moto2 quindi io sicuramente vi farò questa gara e poi vi farò vedere che cosa succede perchè sono molto 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 curioso sono molto curioso assolutamente ok praticamente mi sono fatto squalificare dalla gara perfetto vediamo un po' eh campione campione del mondo sudato abbiamo finito la gara così non ve l'ho fatta vedere mi sono fatto squalificare via campione del mondo sudato poi c'è Vinales e poi c'è Rins addirittura Rins è arrivato terzo però chi se lo sarebbe mai aspettato ok zero punti perchè non abbiamo avuto meno meno 155 ma si ma chi se ne frega dai fatemi vedere voglio andare in Moto2 vogliamo andare in Moto2 tutti in Moto2 dai su fai sto caricamento veloce vediamo un po' lap 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 vediamo un po' eh email vabbè risultato deludente che è giornata storta in conclusione campionato vediamo eh ora che la gara di Valencia è passata possiamo concedere in un periodo di immediato riposo spero che lo utilizzerebbe per staccare la spina dei miei gatti e recuperare le energie personalmente sono molto soddisfatto come abbiamo lavorato insieme spero che potremmo continuare a fare un futuro Antonio ciao Antonio ciao allora io devo capire come andare in 2.50 questa è una cosa che devo capire vediamo eh ok io ho controllato ma qua non mi dice niente non mi dice assolutamente niente io faccio prossima stagione vediamo un po' andiamo un po' alla prossima stagione ciao ciccio come ti avevo anticipato via mail negli ultimi giorni ho portato avanti delle trattative con alcuni team interessati ad ingaggiarti qui trovi una lista di quelli che ci hanno fatto un'offerta vabbè vediamo offerte magari oh ecco la moto 2 moto 2 eccoli moto 2 ci abbiamo la dinavolt intact GP ci abbiamo la ha vinta poi ci abbiamo questa la torre team calvo che però non è moto 2 non è moto 2 bastardi questa no e questa no perfetto ci abbiamo le prime 3 che sono di moto 2 io sinceramente fra queste 3 la prima la escluderei sono indeciso lo scorso anno erano mia diciassettesima posizione e questo è un ottavo beh io mi prenderei questa bianca e nera sinceramente moto 2 sei sicuro di formare per questa squadra si e ce ne andiamo moto 2 signori lo speciale palline campione della moto 2 campione della moto 3 i migliori piloti al mondo signori siamo uno dei migliori piloti al mondo incredibile e abbiamo firmato per la moto 2 quindi benvenuti nella categoria moto 2 signori vediamo un po' nuova stagione quotidiani moto gp gran prova ricerca pronti via signori siamo pronti via vediamo che cosa ci dicono email team manager inizia il campionato e ciccio una voce di auguri a stagione stiamo definendo gli ultimi dettagli per quanto riguarda la squadra quest'anno bla 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 va bene va bene io andrei subito sinceramente iniziamo questa caretta facciamo sempre così ventesima posizione obiettivo squadra ventesima posizione ma che roba è aspetta scegliamoci l'avversario vediamo eh ah non possiamo scegliersi molti avversari va bene prima vediamo un attimo però come va vediamo un attimo come va prima facciamoci questa iniziamo questa gara a moto 2 adesso la moto dovrebbe essere totalmente differente cioè dovrebbe essere molto più potente io non ne ho idea io non ne ho idea l'idea qui è semplice se puoi sognarlo è possibile Giorgio Lorenzo ragazzi pollice in su perché siamo in moto 2 signori pollice in su perché siamo in moto 2 rand 1 Grand Prix of Qatar siamo in Qatar il favosoloso lo sei l'International Circuit già ve l'ho letto già più di due volte mio dio sono emozionato siamo in moto 2 non ci credo mio dio non ci credo impressionante vai su vai con questi caricamenti vai su che voglio vedere com'è la moto 2 dai buonasera buonasera e benvenuti al circuito di Losail in Qatar c'è già un gran movimento all'interno dei box e tra pochi minuti la direzione gara aprirà il tradizionale turno di qualifica ok ci siamo dobbiamo qualificarci bene non abbiamo grandi obiettivi con questa moto assolutamente non abbiamo grandi obiettivi perché comunque mi hanno detto ma guarda a fine campionato si arrivi ventesimo a noi va pure troppo bene quindi sicuramente sentite che potenza sentite che potenza questa non è una bicicletta come quell'altra regà eh questa non è una bicicletta questa spinge mio dio sentite grombo mi sa che le cose incominciano a farsi veramente interessanti mio dio sentite eh ma ma sapete i botti che farò perché mo' ci dobbiamo riabituare a questa folle velocità speriamo che anche i freni siano giusti tutto rapportato ma credo di si sentite che roba sentite che roba mamma mia che roba signori queste pistano eh queste pistano qua non si gioca più eh questi non so più giocattoli mamma mia mamma mia per me qua il modo di di gareggiare sarà totalmente differente non lo so vai così vai così il nostro primo turno di qualifica su una moto 2 e non so come sta procedendo perché mi ritrovo a frenare tantissimo oh mio dio come slitta sta moto mamma mia che potenza mio dio è difficilissima da guidare mamma mia ma state a sentire che rombo cioè sentite che rombo signori porca miseria ma io freno io non so come comportarmi sto sincero sono sincero non so come comportarmi è difficilissimo cioè perché è velocissima e quello è il problema mamma mia però posso anche spingere di più curva eh perché c'è il posteriore che logicamente la moto essendo più veloce mi spinge anche un pochino di più vai così vai così vai così la prima posizione è 1.58 lui faremo tipo 2 minuti e 4 sicuro qualcosa del genere vediamo un po' eh ah no neanche tanto neanche tanto siamo secondi siamo secondi io voglio riprovare a ricirarmela oggi vi voglio proprio far godere voglio provare a ricirarmela vediamo un po' che tempo facciamo eh vediamo che tempo facciamo rigiocando vai così vai così vai così vai qua senza frenare no un pochetto tutto frenare perché sennò andavamo via cordolo 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 mio dio è difficilissimo girare su questa cacchio di moto poi con la con i frame cacchio di moto gp ogni tanto se ne vanno vai così è bellissima è bellissima anche i nostri colori del casco vanno bene su questa moto vai così io ancora non ho ben capito gli intertempi perché c'è un po' di confusione perché c'è chi mi dice che il grigio è meglio o il grigio è peggio e ancora non ci ho capito niente ma lo scopriremo molto presto vai così con due giri di qualifica oggi signori mamma mia con due giri di qualifica siamo cattivissimi siamo davvero cattivissimi o mi devo abituare tipo a frenare più tardi eh ma qui ci vorrà qualche gara prima che ci impariamo a guidare sta moto eh assolutamente vai così vai così vai 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 butta giù ci manca l'ultima curva l'ultima curva e vediamo se siamo migliorati eh vai forse siamo usciti anche meglio forse siamo usciti anche meglio forse eh non lo so vediamo un po' vediamo un po' eh ma io penso di si comunque io penso di si eh dodicesimi e io direi che per il momento dodicesimi ci abbasta ma sarà adesso davvero sarà difficile fare ottimi piazzamenti anche perché non è che abbiamo una grandissima moto eh cioè non abbiamo una grandissima moto quindi dovremmo cambiarla spesso e volentieri oh mio dio che c'è davanti e spara asparaggio c'è asparaggio davanti mio dio non vorrei che diventasse lui il nuovo il nostro nuovo sfinante asparaggio mio dio asparago o asparaggio non lo so mo veniamo dopo sono emozionato ragazzi prima delle curve ci sono delle strisce bianche dipende sull'erba dipende sull'erba tra una riga e l'altra ci sono 50 metri queste linee servono di riferimento per decidere dove frenare lo sapevi? no non lo sapevo grazie per avermelo detto ah non lo sapevo buonasera buonasera dal circuito di Losail finalmente l'attesa è finita e una nuova stagione del moto mondiale sta per cominciare moto e piloti sono quasi pronti per scendere in pista e tra pochi minuti inizierà il gran premio del Qatar classe moto 2 ok siamo in moto 2 signori come detto siamo in moto 2 mi sto preoccupando fottutamente tantissimo anche perchè non abbiamo una grande scuderia diciamo così oh mio dio mamma mia che partenza brutta che partenza brutta oddio sono emozionato qua sono in moto vera qua sono in moto vera non sono tricicli ok perfetto usiamo il roller vabbè già ho capito che qua sarà tutta una bellezza senti questi senti questi senti questi senti come rombano vai così mio dio signori ma io non li riesco a prendere c'è ma veramente stiamo dicendo brena brena mio dio ma corrono tutti signori ma qui è un casino mio dio mio dio ma siamo ultimi cioè ma che moto ci abbiamo ma che moto ci abbiamo cioè rispetto a quella dell'altra è un triciclo ma perché vai porca miseria io pensavo che era tanto più forte ma guarda non li riprendo vai 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 che forse qualcuno lo riusciamo a prendere non so non so veramente come stiamo andando non ne ho idea cioè non so se è normale andare in moto 2 e fare questi risultati ma penso di sì boh chi lo sa oh mortacci vostra oh mamma mia non siamo mai stati così tanto in mezzo al macello comunque mamma mia ma è stato in mezzo a tutto sto macello c'è Pasini davanti e dietro tutti l'altri io me ci appoggio io me ci appoggio vai rettilineo prendiamoci la scia prendiamoci la scia prendiamoci la scia la moto è bella ma siamo quattordicesimi c'è Red davanti chi è Red? non ne ho idea ma porca miseria porca freniamo 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 ok ok Pisani o Pasini non riesco a leggerlo bene vai così vi rompo il cul ve lo rompo mica tanto ce lo rompono ok siamo usciti veloci Pasini ce l'abbiamo tolto dalle palle oh mamma mia vai così vai così no devo frenare devo frenare assolutamente no non riesco ad andare più veloci di così ragazzi non ci riesco ma porca miseria ma è normale per favore mi fate sapere nei commenti che è normale magari se non abbiamo una moto molto performante quindi è normale girare così o è proprio difficile la moto 2 non vorrei che dobbiamo cambiare la difficoltà perché questi spingono troppo regà cioè spingono davvero troppo guarda che roba cioè ma quattordicesimi loro diranno sì grande risultato va bene ma è incredibile senza parole vieni qua vieni vieni cacci vostra quanto spingete ma è incredibile vieni vieni cioè io penso di stare a gareggiare in un cioè abbastanza bene non dico spettacolarmente ma diciamo che comunque penso di stare a gareggiare bene contro scottex qua ci abbiamo scottex vai così questo è il secondo giro vai non ne ho idea ma penso che sia normale per colpa della della scuderia che ci abbiamo perché la moto non è molto performante ma sicuramente sarà così ma sicuramente sarà così cioè almeno io credo frena 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 ok ho frenato all'ultimo che c'è scottex qua dietro che ciò le rompe le palle vai così oh mamma mia come slittano ste moto come slittano vai ma penso che comunque stiamo facendo una buona gara eh perché mi ricordo che pure la moto 3 all'inizio era così ve lo ricordo vai così mamma mia queste sì che sono moto ma rispetto a quell'altra a moto 3 direi che ci siamo oh mio dio io non so immaginare la moto gp oh non mi toccare scottex scottex del cacchio no no ma comunque penso che siamo arrivati in questa posizione il nostro debutto in moto 2 il nostro debutto in moto 2 penso che è tredicesimo non credo che sia male eh cioè non credo comunque dicevano che volevano la ventesima posizione cioè abbastava pure se arrivavo ultimo cioè siamo arrivati tredicesimi mamma mia quanto spingono quelli davanti ma 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 io penso che sia una questione di moto non credo che sia una questione di pilota cioè non credo signori non credo proprio andiamo avanti andiamo avanti così diamoci da fare diamoci da fare magari riusciamo no non riusciamo a superare nessun altro perché siamo arrivati siamo arrivati così gara terminata mio dio quanti secondi ci hanno passato mamma mia e poi pure noi non abbiamo careggiato male eh ecco nel senso due minuti e come abbiamo fatto nelle qualifiche porca miseria e qui pure boh qui arrivato Scott Redding Dominic e Tadadashi dobbiamo vedere qua dobbiamo vedere Redding Mortacci di Redding c'è pure Rabat c'è Bat Xel boh non ci sto capendo praticamente niente signori non ci sto capendo praticamente nulla sto zero sto zero fatemi sapere nei commenti se secondo voi la gara è andata bene se è giusto che sta moto va un po' così un po' a moto a scoppio un po' così allora intanto vediamo che ci dicono le mail vediamo eh Team Manager grande piazzamento ciao ciccio e i miei complimenti per il risultato che ho ottenuto oggi sei riuscito a raggiungere l'obiettivo e ce l'avevamo prefissati e siamo tutti contenti di come stai guidando continua così vabbè se siete contenti voi pure Team Manager tutti quanti vediamo un po' gli interessi del team che ci abbiamo modo 2 modo 2 qui a bella abbiamo pure un'altra eh ma qualche modo oh questa ce l'abbiamo un po' più oh no questa non la possiamo prendere mannaggia la miseria devo devo e se mi sfido di poco di loro Simone Corsi vediamo un po' eh raggiungi se vuoi essere allenato da loro raggiungi il livello di promessa va bene va bene e qui sarà da andare piano piano ragazzi sarà da andare piano piano ma se io per esempio mi volessi sfidare che ne so lui che secondo me io mi voglio sfidare lui esatto mi voglio sfidare lui Thomas Lutti non so che cosa sei qualificato non ne ho idea vabbè ragazzi datemi qualche consiglio voi lasciatemi un bel pollicione in su commentate condividete benvenuti in modo 2 al prossimo appuntamento con il vostro CiccioGamer89 ciao sono CiccioGamer se il video ti è piaciuto lascia il pollicione se non sei un corpito e se non lo lasci stai pur sicuro che prima o poi ti si incula un paguro oh yeah sì 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 sì